buongiorno a tutti e benvenuti al webinar utilizzare il laser scanner per la protezione delle persone aspettiamo ancora qualche minuto per dar modo a tutti i partecipanti di potersi collegare e poi cominciamo grazie buongiorno anche da parte mia nel frattempo mentre aspettiamo che i partecipanti si colleghino volevo giusto dire due parole di introduzione su un argomento al di fuori di quello che andremo a trattare nel nostro webinar e volevo giusto raccontare per chi non lo sapesse già che ci sarà un grosso cambiamento nell'ambito delle macchine nel prossimo futuro è stata presentata il 21 aprile del 2021 quindi poco tempo fa la proposta del nuovo regolamento macchine questa proposta adesso è al vaglio della commissione del parlamento europeo e quindi vedrà la luce si suppone tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo però è un qualcosa che cambierà radicalmente in modo di verificare la conformità delle macchine per tutti quelli che sono interessati a questo argomento sarà un regolamento non sarà più una direttiva la differenza tra regolamento e direttiva è che la direttiva è un atto che deve essere recepito dai vari stati membri un regolamento invece è direttamente applicabile e quindi c'è meno incertezza nel diritto ci sono meno possibilità che i recipienti comunque facciano qualche piccola differenziazione nazionale anche se non dovrebbe essere così e ci sarà un'applicazione uniforme nello stesso momento in tutta in tutto lo stati dell'unione senza eventuali ritardi cosa che ad esempio in italia succede molto molto spesso niente questo è quello che ci vedrà il futuro dicevo verrà pubblicato con ogni probabilità tra la fine di quest'anno all'inizio dell'anno prossimo poi sono previsti 30 mesi per la sua applicazione quindi verrà applicato poi effettivamente probabilmente a metà del 2024 e ci saranno ancora 12 mesi di sovrapposizione con l'attuale direttiva 2642 CE e quindi fino a metà del 2025 molto probabilmente si potranno vendere macchine ancora conforme alla direttiva attuale questo nuovo regolamento però è molto importante andrà a portare delle modifiche significative soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie quindi ci saranno dei requisiti che tengono in considerazione le modalità di collaborazione tra uomo macchina quindi robot collaborativi e quindi non più solo un proteggo la macchina impedisco di accedere ma ho anche altri modi per garantire la sicurezza delle persone quando è necessaria un'interazione stretta con le macchine ci saranno dei requisiti sull'intelligenza artificiale anche questo un qualcosa che nel campo delle macchine non ha ancora una penetrazione particolarmente profonda quindi particolarmente ampia ma è sicuramente in grosso sviluppo e poi ci saranno dei requisiti che riguardano la sicurezza informatica anche questo un aspetto che sicuramente va tenuto in considerazione gli attacchi informatici alle macchine ci sono già ora le macchine sono sempre più complesse sempre più controllate da equipaggiamenti programmabili e sempre più connesse anche con i piani vari piani europei industria 4.0 si è spinto sull'interconnessione delle macchine interconnessione delle macchine vuol dire sì macchine controllabili macchine che possono essere viste da remoto ma vuol dire anche macchine più attaccabili tutto questo verrà tenuto in considerazione nel nuovo regolamento seguite poi gli aggiornamenti che verranno nei prossimi mesi sicuramente quest'autunno ci sarà qualche ulteriore aggiornamento e poi man mano terremo informato degli sviluppi di questo nuovo sviluppo normativo e legislativo direi direi che possiamo iniziare iniziere col comunicarvi che appunto i microfoni dei partecipanti saranno spenti per tutta la durata del webinar per garantire un audio ottimale che questa sessione di webinar è registrata per poi essere appunto condivisa con tutti i partecipanti e che comunque avrete la possibilità di entrare in contatto con con gli speaker per sottoporre le vostre domande attraverso il box della question and answer o tramite o tramite la chat come dicevamo prima appunto il webinar di oggi ha come tema l'utilizzo dei laser scanner per la protezione delle persone inizio col presentarmi io sono tiziana molfese sono la field marketing specialist per per data logic per per l'italia e anche per i tori territori in middle east e africa prima di lasciare la parola poi ad ernesto cappelletti e raffaele tomelli volevo fare un piccolo insomma una piccola introduzione su su chi è data logic data logic è un leader tecnologico a livello a livello mondiale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati ma anche dell'automazione della formazione industriale è specializzata appunto come potete leggere nella nella progettazione nella produzione di lettori di codice bar dei sistemi di visione rilevazione misurazione sicurezza rfd e anche marcatura laser ed è siamo comunque conosciuti riconosciuti nel mercato in quanto siamo in grado insomma grazie a tutte queste prodotto questo portafoglio prodotti di garantire abbracciare una vasta insomma una vasta gamma e di settore distinti nel mercato che insomma alla fine poi è un vantaggio per per l'utente finale abbiamo più di 40 anni di storia quindi insomma abbiamo cominciato abbiamo cominciato molto presto nel 1972 e in questi più di 40 anni abbiamo conseguito insomma di risultati abbastanza abbastanza importanti che comprendono investimenti importanti non solo nei prodotti ma anche in in brevetti circa 1200 brevetti in diverse giurisdizioni l'apertura il consolidamento di 10 centri di ricerca e di sviluppo ingegneri l'azienda inoltre cresciuta costantemente nel corso degli anni grazie sicuramente alla qualità dei prodotti ma anche appunto agli investimenti che sono stati fatti in ricerca e ricerca e sviluppo sono siamo circa 2800 dipendenti suddivisi in 27 paesi quindi insomma abbracciamo tutti e cinque tutti e cinque continenti e dal a partire dal 2001 è entrata data logica spa come gruppo è entrata a far parte insomma è iniziato ad essere quotata al segmento star della borsa della borsa italiana come dicevo prima una storia che comincia insomma più di 40 anni fa data logica un'azienda che nasce per iniziativa di romano volta che il fondatore alle porte alle porte di bologna inizialmente è focalizzata sulla produzione di apparecchiature elettroniche progettazione e produzione di controlli foto elettrici per l'industria principalmente testile della ceramica e dell'imballaggio nel 1974 inizia a partire quella che per noi è un'espansione in campo internazionale viene aperto prima un ufficio di rappresentanza in germania si prosegue poi con la commercializzazione dei prodotti di data logica in giappone per poi arrivare anche oltre oceano negli stati uniti dove viene costituita la prima società nel nel 1978 i primi anni 80 sono quelli che segnano un po un affermarsi di data logica in quanto poi insomma questa questa espansione diventa sempre più internazionale appunto sedi di ricerca e di produzione vengono poi aperti nei cinque continenti la crescita continua anche nel nel nuovo millennio con un continuo focalizzarsi sugli investimenti e sulla progettualità e questo insomma è anche un po segno di costanza soprattutto in ambito di innovazione data logica non si ferma qui nel senso che è un'azienda insomma che è sempre molto attenta comunque anche quelle che sono delle acquisizioni strategiche su quelle che sono state per noi delle acquisizioni strategiche non ve le cito tutte però insomma diciamo che alcune importanti sono state quella di laser ball che un'azienda attiva nel settore della marcatura laser data sensor nel 2008 diciamo un pochino più recente è un'azienda insomma che fa parte sempre della parte di automazione industriale quindi che anche aiutato data logica un po consolidarsi in questo in questo segmento ppt vision nel nel 2011 e la più recente acquisizione che quella del di marzo 2021 quindi recentissima di md micro detectors che attiva nella progettazione vendita di sensori industriali con quest'ultima acquisizione data logica insomma va un po rafforzare la sua presenza non solo italiana ma anche mondiale nel mercato dell'automazione dell'automazione industriale integrando nel suo portafoglio prodotti quello che sono tutta la parte di sensori sicurezza e visione artificiale perché il nostro webinar di oggi in in sinergia con con quadra con quadra srl diciamo che quadra e data logic sono due realtà che operano insieme con l'intento di poter fornire un servizio completo a 360 gradi data logica in qualità di produttore di componenti e quadra in qualità di fornitore di servizi consulenziali nonché di formazione per appunto per la parte della messa in sicurezza il connubio tra queste due realtà costituisce un valore aggiunto un valore aggiunto per i costruttori di macchine e per per gli utilizzatori finali che appunto hanno la necessità di mettere in sicurezza le loro macchine e i loro e i loro impianti quindi non limitandosi non limitandosi solo alla parte di diciamo dei componenti ma soprattutto anche quella di analisi e di certificazione vi ringrazio per l'attenzione spero di essere stata chiara breve coincisa passo adesso la parola a ernesto cappelletti di quadra srl grazie grazie tiziana dell'introduzione una presentazione anche mia mi chiamo ernesto cappelletti sono responsabile tecnico di quadra srl e vado vado a giusto fare una brevissima introduzione di quello che siamo noi come società quadra è nata più di 25 anni fa nell'ambito della sicurezza delle macchine ci siamo sempre occupati di questo continuiamo a occuparsi di questo quindi affianchiamo progettisti per tutto quello che riguarda i servizi sulla marcatura c e delle macchine eh sia nuove che anche per gli adeguamenti delle macchine già in servizio ad esempio ai requisiti del decreto legislativo 8108 in italia eh forniamo assistenza sia per eh gli aspetti che riguardano la conformità alle normative europee sia per i mercati europei ad esempio per quanto riguarda gli Stati Uniti il Canada il Brasile l'Australia eh adesso anche eh la Gran Bretagna e così via eh siamo dal 2017 anche eh soggetto che verifica e perizia eh tutte le macchine interconnesse secondo quello che prima era Industria 4.0 adesso viene chiamato protocollo transizione 4.0 e una cosa che ci tengo a dire eh nel nostro settore magari non è così comune eh operiamo solo con personale nostro dipendente perché crediamo che questo sia il modo per eh riuscire a a fornire un servizio di qualità eh come diceva prima Tiziana ci occupiamo di consulenza ma ci occupiamo anche di formazione siamo integritato da regione Lombardia da forno imprese e quindi possiamo fornire formazione tecnica di tutti i tipi anche interamente finanziata eh partecipiamo a vari comitati tecnici internazionali per quanto riguarda lo sviluppo delle norme e va bene abbiamo anche eh tutta una serie di corsi eh non solo a catalogo quindi eh che coprono più o meno tutti gli aspetti che guardano la direttiva macchina ma anche personalizzati se si vuole per i clienti ehm un'altra cosa che volevo dirvi dal punto di vista organizzativo eh le slide che state vedendo poi eh vi verranno inviati vi verrà inviato un link eh al quale potrete scaricare le slide iniziamo a questo punto con l'argomento eh di questo webinar eh oggi parliamo di laser scanner quindi il mio compito prima poi di passare la parola a Raffaele Tomelli che vi parlerà delle applicazioni è quello di illustrare un po' quali sono i requisiti normativi che si possono applicare ai laser scanner e eh farò eh un breve panorama di quelle che sono le normative attualmente eh in vigore e poi un piccolo accenno anche su quelli che possono essere i futuri sviluppi normativi che in questo momento sono in corso di opera eh partiamo da eh quella che è eh la norma base diciamo per il posizionamento di tutti i dispositivi di protezione in materiali ovvero la UNIN ISO 3855 norma del 2010 che dà un'indicazione di come devono essere posizionati i dispositivi di protezione in funzione della tipologia di dispositivi e eh della modalità con cui questi dispositivi sono installati. La formula generale è questa la distanza minima in millimetri tra il dispositivo di protezione quindi la zona di detezione dove viene individuata la presenza delle persone e la zona pericolosa detta S deve essere almeno pari a K ovvero la velocità di avvicimento del corpo o di una parte del corpo millimetri al secondo per T dove T è il tempo di arresto complessivo degli elementi pericolosi protetti quindi da quando il dispositivo è intervenuto a quando l'elemento si è fermato effettivamente più eventualmente una distanza di intrusione detta C che è una distanza che una parte del corpo può percorrere senza essere individuata ai dispositivi di protezione quindi è quella parte del corpo che può entrare nella zona pericolosa senza che il comando di arresto sia ancora stato dato e quindi di questo dobbiamo tenere in considerazione. Ci sono poi come dicevo diverse modalità di calcolo a seconda del posizionamento dei dispositivi quindi anche di come questi dispositivi sono orientati quindi innanzitutto la direzione di avvicinamento ortogonale in questo caso l'attrice 855 da dei requisiti quando i dispositivi sono disposti appunto verticalmente l'altezza della parte inferiore della zona di detezione non deve essere a più di 300 mm dal pavimento o comunque dalla superficie che sta sotto al dispositivo per impedire che una persona possa passare sotto alla zona di detezione del dispositivo senza essere individuata invece l'altezza della zona superiore del bordo superiore della zona di detezione non deve essere inferiore a 900 mm per evitare che la zona di detezione del dispositivo possa essere scavalcata possa essere saltata senza che il dispositivo intervenga. Poi il calcolo si fa in questo modo la distanza deve essere pari a 2000 mm al secondo per il tempo di arresto più c dove c è uguale a 8 per la capacità di detezione meno 14 mm quindi a seconda della capacità di detezione del dispositivo quel fattore c cambia perché più è piccola la capacità di detezione quindi più è piccolo il corpo che può passare all'interno della zona di detezione senza essere individuata e meno è possibile che una persona in file le mani tipicamente all'interno della zona pericolosa senza essere individuata. Questa formula si applica per valori di s fino a 500 mm e comunque la distanza s non può essere mai inferiore a 100 mm. Al di sopra di 500 mm invece la formula diventa 1600 mm al secondo per t più c ovvero quel 2000 mm diventa 1600. Perché questo cambio? Perché fino a 500 mm si ritiene che è solo il braccio che si muove mentre oltre 500 mm si deve muovere anche il resto del corpo sicuramente il busto ma forse anche tutto il corpo quindi è più lento il movimento di tutto il corpo o del busto rispetto al movimento del solo braccio e per quello che la velocità che si utilizza diventa più bassa. Altra norma di riferimento CEI NIEC 62 046 attualmente nell'edizione 2021 quindi in edizione che è stata appena pubblicata. Questa norma ha sostituito quello che prima era una specifica tecnica la CEI CLC TS 62 046 e il passaggio da specifica tecnica a norma ne ha aumentata la valenza. Sapete che i rapporti tecnici o le specifiche tecniche danno delle indicazioni che però non sono delle indicazioni normative e soprattutto poi non possono essere armonizzate ovvero una specifica tecnica un rapporto tecnico non potrà mai dare la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva mentre una norma sì lo può dare quindi essere passato da una specifica tecnica ad una norma appunto aumenta la valenza del di quello che si va a dire. Gli AOPDDR ovvero i laser scanner di cui poi parleremo diffusamente possono essere utilizzati anche per individuare il passaggio delle persone quindi individuo il passaggio delle persone posizionando la OPDDR in verticale cioè la vado a posizionare in modo tale che la zona di rilevamento intercetta un'apertura ad esempio in questo esempio che viene riportato dalla norma c'è una zona di rilevamento che mi copre una porta ecco attenzione che la norma mi dice la zona di rilevamento va bene ma c'è anche una zona di tolleranza ovvero una zona nella quale non è certa l'individuazione della persona del corpo quindi quella zona non deve essere considerata se ci fosse la possibilità di passare ad esempio tra la parte fissa quindi ad esempio in questo caso il muro o comunque quello che è la struttura attorno alla porta e la zona di rilevamento vera e propria allora a questo punto il dispositivo non andrebbe bene quindi si dice attenzione se la zona di tolleranza supera i 100 mm c'è bisogno di una sovrapposizione e la sovrapposizione deve essere calcolata come indicato in quella formula quindi 2 per TS, TZ dove TZ è il valore della zona di tolleranza meno di dove TZ è la capacità di rilevamento dichiarata del dispositivo quindi in questo caso come vedete per coprire l'apertura non posso mettere il dispositivo all'interno dell'apertura ma devo metterlo all'esterno in modo tale da coprire completamente l'apertura avendo una zona di tolleranza al di fuori della parte dove la persona può passare ci sono poi altre considerazioni a mio parere interessanti da fare quando si vuole utilizzare un dispositivo di questo tipo come dispositivo per sentire il passaggio della persona ho riportato qua una figura che è tratta da una norma la UNIN 415 tratto 10 del 2014 è la norma che riguarda i requisiti generali di sicurezza per le macchine per imballaggio e questa norma mi dice guarda potresti utilizzare un dispositivo tipo punto laser scanner ad esempio per individuare scusate per individuare il passaggio di una persona attraverso ad esempio una zona di ingresso uscita di pallet perché questi dispositivi possono essere configurati in modo tale da avere zone di detezione differenziate e quindi potrei avere una zona di detezione differenziata e quando passa il pallet fare un foro, un buco virtuale all'interno della zona di detezione in modo tale da far passare il pallet ma non consentire che una persona passi ad esempio di fianco al pallet bisogna tenere conto però delle zone d'ombra questi dispositivi funzionano con un principio che è quello di un raggio laser che va a misurare di fatto la distanza del primo oggetto che va a incontrare un raggio laser che appunto fa una scansione nello spazio e quindi copre una superficie se però c'è un oggetto opaco al raggio laser è chiaro che quell'oggetto proietta un'ombra vedete nella figura a sinistra quella zona punteggiata più scuro U è la zona d'ombra se c'è un oggetto in quella zona non viene individuata quindi attenzione che quella zona d'ombra non sia troppo grande sufficientemente grande ad esempio da consentire il passaggio in una persona senza che sia individuata si può avere una configurazione dove non ci sono questi effetti ad esempio installando come nella figura che vedete sulla destra invece due laser scanner, due dispositivi che coprono ognuna o metà della zona di detezione necessaria e che quindi riescono ad avere una zona di detezione senza coni d'ombra ecco questo è un altro effetto che io posso utilizzare per fare in modo di avere appunto una zona di detezione senza possibilità che non venga individuato il passaggio di persone o comunque corpi che devono essere individuati una formula invece differente si ha quando i dispositivi sono disposti orizzontalmente che poi in questo caso la norma 3855 fa l'esempio di una barriera fotoelettrica ma lo stesso principio si può utilizzare assolutamente per il laser scanner quindi in questo caso c'è sempre una distanza S tra il bordo esterno della zona di detezione e la zona pericolosa e questa distanza S avrà sempre la formula generale ma questo C che come minimo deve essere 850 mm sarà calcolato come 1200 mm meno 0,4 H dove H è l'altezza da terra o comunque dal piano di riferimento del dispositivo di protezione sensibile quindi la formula diventa 1600 mm al secondo per il tempo di arresto più 1200 mm meno 0,4 H e c'è anche una relazione tra H e D ovvero l'altezza minima da terra del dispositivo di protezione deve essere pari a 15 per la capacità di detezione meno 50 mm e la capacità di detezione scusate la zona di detezione deve comunque sempre tenere conto della zona di tolleranza B e questa zona di tolleranza B deve essere comunque aggiunta alla distanza minima S perché la zona di tolleranza è quella zona dove come ho detto prima non ho certezza dell'individuazione del corpo di una persona di una parte del corpo della persona e quindi quella zona per me non esiste perché non avendo certezza non posso contarsi quindi devo contare solo la zona dove non ho comunque incertezze sulla capacità di detezione del dispositivo altezza della terra comunque del dispositivo non deve essere superiore a 1000 mm ma è consigliabile che non sia superiore a 300 mm per impedire che una persona possa passare sotto al dispositivo se il dispositivo viene utilizzato per l'individuazione del passaggio delle persone la zona di detezione deve essere di almeno 750 mm che è il passo tipico di una persona che cammina ma i dispositivi di protezione disposti orizzontalmente tipicamente vengono utilizzati per individuare le presenze delle persone non il passaggio ovvero finché una persona sta nella zona pericolosa il dispositivo ne rileva la presenza e quindi impedisce che gli elementi pericolosi possano essere avviati ecco nel momento in cui si fa una cosa di questo tipo bisogna impedire la possibilità di stare all'interno della zona pericolosa senza venire individuato il dispositivo ad esempio salendo su una parte della struttura della macchina quindi bisogna fare in modo che non ci siano parti sulle quali la persona può salire che non ricadono nel campo di detezione del dispositivo ripristino è necessario un ripristino esplicito nel caso di rilevamento della presenza delle persone? no, non è necessario però è consigliabile non è necessario nell'ipotesi che abbiamo detto prima ovvero che non ci sia nessuna possibilità per una persona di stare nella zona pericolosa senza essere individuato dal dispositivo di protezione sensibile abbiamo parlato di tempi di arresto ma sapete il tempo di arresto come va determinato? guardate non ho paura di essere smentito se dico che tantissime volte parlando con i fabbricanti delle macchine e chiedendo i tempi di arresto per poi poter fare il calcolo che abbiamo visto prima della distanza di sicurezza mi viene risposto beh, è praticamente immediato ma si ferma quasi subito ok, ma che numero mettiamo? allora avete visto prima 2000 mm al secondo per T dove T è il tempo di arresto in secondi vuol dire che un decimo di secondo sono 200 mm di distanza quindi un decimo di secondo sono 200 mm di distanza tra i decimi sono 400 mm di distanza tra i decimi sono 600 mm di distanza e così via quindi sbagliare di mezzo secondo vuol dire sbagliare di un metro il posizionamento non so chi è collegato se è così signore da avere spazi infiniti attorno alle macchine ma di solito i clienti che seguiamo noi non sono così fortunati e cercano di restringere il più possibile lo spazio occupato dalle macchine quindi sapere qual è il tempo di arresto in modo preciso permette di posizionare i dispositivi di protezione in modo corretto ma anche più vicino possibile alla zona pericolosa quindi di fare una macchina che sia la più compatta possibile come calcolare o come misurare i tempi di arresto è indicato nella unione ISO 3855 nell'allegato D e dice quando definisco i tempi di arresto devo riferirmi al caso peggiore ovvero al tempo di arresto più lungo che generalmente corrisponde alla massima velocità effettiva e nel caso in cui ci siano ad esempio possibilità di carico variabili al massimo carico di solito comunque devo considerare quello che è la condizione di utilizzo della macchina che è peggiorativa rispetto al tempo di arresto però dice anche attenzione non devi considerare la velocità a seguito di un guasto ma devi considerare la velocità effettiva e anche quindi la rampa di decelerazione effettiva se voi avete un arresto in categoria 1 ovvero un arresto controllato per mezzo di un azionamento di velocità variabile io vado a prendere come tempo di arresto il tempo della rampa prevista, programmata non il tempo della rampa che potrei avere nel momento in cui c'è un guasto dell'azionamento questo perché? perché la norma dice è improbabile che un operatore acceda alla zona pericolosa contemporaneamente al verificarsi di un guasto e quindi l'incremento dei tempi di arresto per considerare questo sarebbe irragionevole è talmente improbabile ad essere ritenuto trascurabile quindi considero il tempo di arresto peggiore più lungo ma in condizioni di funzionamento normale della macchina e non in condizioni di guasto questo è un'altra cosa molto importante quindi poi cosa faccio? beh, o riesco a fare questi calcoli oppure se non riesco a fare questi calcoli cosa che di solito non si riesce a fare li devo misurare ma mi basta misurarli una volta? no, devo misurarli almeno 10 volte poi devo calcolare qual è la deviazione standard del campione vedete SX medio con la formula che vedete lì a destra e poi che tempo di arresto prendo? beh, prendo il maggiore tra il massimo tempo di arresto che ho misurato oppure la media dei tempi di arresto che ho misurato più 3 volte la deviazione standard del campione che mi dà un intervallo di confidenza del 99,7% considerando che la distribuzione sia una distribuzione normale questo lo devo fare signori come faccio a fare la misura? beh, vedete voi noi ad esempio abbiamo questo strumento che è un misuratore di tempi di arresto che mi permette lo strumento ha una risoluzione del millesimo di secondo mi permette di andare a misurare i tempi di arresto effettivo quindi io posso fare 10 volte questa misura avere i tempi di arresto e da lì puoi fare tutti i miei calcoli ma lo devo fare questa cosa perché altrimenti sto dicendo qualcosa che non so ma in questo caso l'approssimazione non porta da nessuna parte né volendo stare troppo bassi perché a questo punto non sto proteggendo nel modo corretto la macchina né a voler esagerare dall'altra parte perché a questo punto non sto facendo la macchina più efficiente possibile ma sto facendo una macchina in cui i dispositivi di protezione sono sovradimensionati oppure sono messi ad una distanza superiore a quella che sarebbe consentita normativamente quindi questa è una cosa importante mi raccomando continuo a dire purtroppo è una cosa che vedo fare non spessissimo prendiamo due minuti del ripristino ripristino manuale partiamo dalla direttiva macchine requisito essenziale di sicurezza e tutta la salute 1.2.2 dice che da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure bisogna impedire l'avviamento fin tanto che c'è qualcuno in quella zona se invece non è possibile verificare che non ci sia nessuno nella zona pericolosa allora devo attivare un segnale di avvertimento sonoro e o visivo però io direi che tipicamente sonoro è necessario e la persona deve avere il tempo per abbandonare la zona pericolosa o per impedire l'avviamento della macchina ad esempio azionando un arresto di emergenza quindi come posso fare per verificare che non c'è nessuno nelle zone pericolose? o ho un dispositivo che mi sente la presenza come dicevamo prima oppure devo usare un comando di ripristino manuale il comando di ripristino manuale mi permette di dire dopo che sono uscito dalla zona pericolosa sì, guarda, non c'è nessuno nella zona pericolosa quindi la macchina può ripartire attenzione, il ripristino non è un riavvio il ripristino permette il riavvio ma il riavvio della macchina deve essere azionato solo a seguito di un ulteriore comando esplicito di avvio separato il comando di ripristino deve essere messo in una zona dalla quale vedo la zona pericolosa protetta ma che non può essere azionato stando all'interno della zona pericolosa protetta quindi non devo poterlo azionare stando dentro ma da fuori devo vedere quello che è la zona pericolosa protetta in modo tale che posso accertarmi che non ci sia effettivamente dentro nessuno e poi un INISO 3849 tratto 1 norma che mi permette di fare la stima di affidabilità calcolando il livello di prestazione dei circuiti di comando con funzione di sicurezza mi dice che questa funzione è una funzione di sicurezza quindi devo andare a calcolare un livello di affidabilità il livello di affidabilità di questa funzione non deve diminuire il livello di affidabilità della funzione nella quale è inserito e la funzione di ripristino manuale deve essere abilitata solo disinserendo l'attuatore della sua posizione citata cioè al rilascio del comando ovvero se la vediamo dal puntista circuitale sul fronte di discesa del segnale questo perché in questo modo devo avere due eventi perché il ripristino sia effettivamente attivo ovvero devo avere un fronte di salita aziono il pulsante e un fronte di discesa ovvero rilascio il pulsante la probabilità di avere due eventi indesiderati è molto più bassa di quella di averne uno anzi è talmente più bassa che in certi casi può essere ritenuta trascurabile nel caso in cui non possa vedere completamente la zona pericolosa protetta dal punto in cui comando il ripristino cosa posso fare? beh la cosa migliore è avere rilevatori di presenza che possono essere tappeti sensibili possono essere barriere fotoelettriche disposte orizzontalmente possono essere radar di sicurezza o possono essere laser scanner io metto dispositivi sensibili di questo tipo che mi coprono la zona che non vedo dal punto di ripristino quindi se individuano la presenza di una persona semplicemente il ripristino non può avvenire quindi finché le persone sono nella zona che io non vedo non posso comandare il ripristino manuale altrimenti potrei usare anche un'altra metodologia avere un comando di ripristino secondario vedete questo esempio è un'isola robotizzata di saldatura nella zona destra vedete la zona di saldatura che era chiusa da ripari opachi per proteggere dalle radiazioni del processo di saldatura ma questo vuol dire che se una persona è all'interno di quella zona dove c'è il robot e si è chiusa la porta alle spalle il comando di ripristino che posto all'esterno della porta non mi consente di vedere all'interno perché se la porta è chiusa io non vedo all'interno posso azionare il ripristino qualcuno è all'interno e non lo vedo quindi cosa posso fare? ho un comando di pre-ripristino all'interno vado ad azionare questo comando di pre-ripristino e poi ho un tempo limitato 5-10 secondi per uscire dalla zona pericolosa protetta chiudere la porta e azionare il ripristino all'esterno della porta in questo modo costringo la persona a entrare nella zona pericolosa accertarsi che non ci sia nessuno e azionare il ripristino solo dopo che ho verificato che effettivamente non c'è nessuno nella zona pericolosa protetta come dicevo prima se non posso adottare nessuna di queste metodologie di queste misure di protezione ad esempio se la zona è molto ampia e quindi non è ragionevole mettere tutti dispositivi che sentono la presenza e non è ragionevole mettere comandi di ripristino in ogni zona che non si vede la postazione di ripristino principale allora adotto come dice anche la direttiva macchina stessa un segnale di avvertimento sonoro e eventualmente visivo che mi preavvisa dell'avvio della macchina il cosiddetto avvio ritardato che tra l'altro è anche un requisito della UNIEN ISO 14118 la norma sulla prevenzione dell'avviamento inatteso un'altra cosa che posso fare anche se è una misura procedurale quindi essendo una misura procedurale ha sicuramente un'affidabilità inferiore rispetto alle misure tecniche perché nel momento in cui la persona non la mette in atto questa misura non c'è potrebbe essere quello di bloccare gli accessi bloccarli con cosa? con un lucchetto la cui chiave viene portata con sé dalla persona quindi io entro nella zona pericolosa protetta blocco la porta con un lucchetto e poi porto la chiave con me finché non sono uscito e non ho tolto il lucchetto la porta non può essere chiusa va bene anche questa però ripeto essendo una misura procedurale nel momento in cui io non applico questa misura a questo punto la misura non funziona quindi teniamo conto di questo se posso adottare una misura tecnica tipo quella che abbiamo visto prima è sicuramente meglio rispetto ad adottare una misura di tipo procedurale l'Asia scanner quali sono i requisiti applicabili? vediamo qualche punto della norma CIN IEC 62046 del 2021 dicevo prima che questa norma mi permette di scegliere posizionare e configurare i dispositivi di protezione per rilevare la presenza momentanea quindi il passaggio o continua delle persone si riferisce quindi a tutti i dispositivi elettrosensibili a partire dalle barriere fotolettiche fino ad arrivare al laser scanner e anche a tappeti o pavimenti sensibili alla pressione o ai bordi sensibili alla pressione il laser scanner è un dispositivo di protezione optoelettronico attivo sensibile alla riflessione diffusa e quindi ha un'emissione di un raggio laser che viene appunto riflesso da un oggetto che va a incontrare il dispositivo è in grado di calcolare la distanza di questo oggetto basandosi sul tempo di volo di questo raggio e quindi riesce a individuare se c'è un qualcosa all'intorno nella zona di detezione che viene programmata come vedete la zona di detezione può essere programmata in varie forme può essere programmata su vari livelli quindi posso avere varie zone di detezione a seconda di quello che voglio fare ad esempio un preallarme e poi un allarme vero man mano che la persona si avvicina alla zona pericolosa questi dispositivi di protezione vanno molto bene quando c'è un accesso frequente e l'interazione con la macchina richiede anche una buona visibilità della macchina del processo è chiaro che la visibilità è perfetta non ho davanti niente di materiale l'accesso frequente è molto comodo perché non devo aprire una porta non devo fare niente basta che attraverso il dispositivo la zona di detezione del dispositivo di protezione e sono dentro una zona pericolosa quindi va benissimo quando non sono adatti questi tipi di dispositivi sicuramente quando il macchinario può espellere dei materiali truccioli o componenti perché non sono in grado essendo i materiali di trattenere nessun tipo di oggetto così come non sono in grado di trattenere anche delle altre emissioni fisiche che possono essere radiazioni possono essere rumore possono essere polveri poi ci possono essere degli ambienti che influenzano negativamente la funzione dei dispositivi ad esempio ambienti molto polverosi influenzano negativamente il funzionamento di laser scanner la cui ottica si può sporcare e quindi può non essere più in grado di funzionare correttamente e anche il materiale in lavorazione può avere un'influenza da questo punto di vista quindi se ci sono se c'è la necessità di avere una protezione anche da altre tipologie di rischi che non siano solo quello dell'accesso alle zone pericolose le zone di movimento allora direi che questi tipi di dispositivi non sono adatti devo passare su dei dispositivi invece di tipo fisico e questo è una cosa sicuramente da tenere in considerazione come dicevo ci possono essere due funzioni individuare il passaggio individuare la presenza oppure ci può essere anche una combinazione di funzioni quindi individuo il passaggio e individuo anche la presenza l'individuazione del passaggio vuol dire che io individuo il passaggio della persona ma nel momento in cui la persona dovesse passare oltre la zona di detezione del dispositivo niente va più a individuarlo e quindi una persona può essere all'interno della zona pericolosa protetta oltre la zona di detezione del dispositivo e non essere individuata e da lì poi quello che vi ho detto prima eventualmente la necessità di un ripristino esplicito se invece rilevo la presenza è una funzione di sicurezza molto più efficace perché fin tanto che una persona sta all'interno della zona pericolosa ed è individuata dal dispositivo di protezione la macchina non può ripartire quindi da questo punto di vista ho sicuramente un livello di protezione più alto i dispositivi di protezione non sono adatti come dispositivo di individuazione nel passaggio nel momento in cui non ci sono le condizioni perché ciò avvenga ovvero perché ci sia comunque un arresto sicuro della macchina al semplice passaggio della persona ad esempio quando ho una frenata inadeguata quindi ho un tempo di arresto elevato per cui io non riesco ad ammettere il dispositivo a una distanza sufficiente a impedire che la zona pericolosa possa essere raggiunta prima che si sia arrestata oltrepassando il dispositivo di protezione quindi la S che abbiamo visto prima non può essere rispettata beh in quel caso devo utilizzare un dispositivo fisico ad esempio una protezione perimetrale con un blocco del riparo che mi impedisce l'apertura dei ripari fin tanto che non si sono fermati gli elementi pericolosi questo è sicuramente un limite da questo punto di vista però in questo caso utilizzerò un'altra tipologia di dispositivi dispositivi fisici la prestazione arresto complessiva deve considerare il tempo di risposta ai dispositivi di protezione il tempo massimo del resto della macchina come abbiamo visto prima dovrebbe essere misurato in più viene suggerito dalla norma di considerare una tolleranza una tolleranza che la norma suggerisce essere minimo il 10% e questa tolleranza dovrebbe servire per tenere in considerazione il decadimento il degradamento delle prestazioni di arresto della macchina perché io misuro il tempo di arresto adesso con la macchina nuova con la macchina efficiente con ad esempio i sistemi di frenatura al loro massimo alla loro massima possibilità ma passando il tempo questi dispositivi si usurano i giochi aumentano e quindi tipicamente i tempi di arresto aumentano questo 10% di tolleranza sui tempi di arresto dovrebbe servire a considerare anche questo effetto quindi se volete tenetelo in considerazione e sappiate che la norma comunque lo consiglia nel momento in cui ho una funzione di arrivamento della presenza la macchina resta in uno stato non pericoloso fin tanto che la persona è all'interno della zona pericolosa ed è individuata dal dispositivo di protezione bisogna evitare che la zona di detezione possa essere aggirata e per fare questo ad esempio potrei utilizzare delle superfici inclinate che possono permettere di impedire di stare su parti della macchina la superficie inclinata una lastra inclinata mi impedisce di stare su quella parte perché chiaramente il piede mi scivolerebbe via e quindi non posso utilizzarlo come superficie di appoggio del piede i dispositivi di protezione elettrosensibili sono classificati dalla norma di riferimento CIN 61496 in tre tipologie tipo 2 tipo 3 e tipo 4 di tipo 2 sono quelli che hanno un test periodico i tipo 3 invece non si guastano in modo pericoloso a causa di un guasto singolo ma un accumulo di guasti può portare a un funzionamento pericoloso i tipo 4 invece non si guastano in modo pericoloso a seguito di un guasto singolo e non c'è un accumulo di guasti che può portare a una condizione pericolosa i dispositivi di protezione di cui parliamo oggi laser scanner sono di tipo 3 tenete presente che c'è una correlazione secondo la 62046 tra la tipologia di dispositivi di protezione e il PL massimo che posso raggiungere o il SIL massimo che posso raggiungere un dispositivo di tipo 2 può raggiungere massimo un PLC o un SIL 1 di tipo 3 può raggiungere massimo un PLD o un SIL 2 di tipo 4 può raggiungere massimo un PLE e un SIL 3 indipendentemente da qual è il livello di affidabilità ovvero il valore di MTTFD questo è quello che viene chiamato un vincolo architetturale cioè l'architettura del dispositivo è tale per cui io comunque non posso andare ad esempio con un dispositivo tipo 3 oltre il PLD o il SIL 2 perché non risponde al requisito architetturale che dovrebbe esserci invece per il PLE o il SIL 3 ovvero che non si ha una perdita della funzione di sicurezza né in caso di un guasto singolo né in caso di un accumulo di guasti quindi questo è un vincolo che comunque indipendentemente dal valore di affidabilità che io ottengo che potrebbe essere un valore di affidabilità sufficiente per raggiungere un PLD o un SIL 3 beh no lo devo comunque limitare per appunto una questione architetturale a un PLD o a un SIL 2 anche questa è una cosa importante da sapere perché nel momento in cui non lo sapete potete appunto fare solo il calcolo di livello di affidabilità e pensare di aver raggiunto un livello di PL o di SIL che invece in realtà non avete raggiunto quindi il dispositivo di protezione di questo tipo come vi ho detto prima va a misurare di fatto la distanza di un oggetto con un mettitore e un ricevitore che emette un raggio e lo riceve e appunto basandosi sul tempo di volo di questo raggio mi dice quant'è la zona scusate qual è l'elemento più vicino che viene individuato questi tipi di dispositivi possono essere utilizzati sia in applicazioni statiche che in applicazioni mobili per le zone di detezione verticali bisogna garantire che questo dispositivo rilevi una persona che passa attraverso la zona a 1,6 metri al secondo e quindi che sia in grado di rilevare il passaggio a questa velocità la norma poi suggerisce di contrassegnare il confine della zona di detezione sul pavimento soprattutto quando ho dispositivi con zona di detezione orizzontale essendo che appunto la zona di detezione è invisibile può essere utile contrassegnare sul pavimento qual è la zona di detezione in modo tale che la persona sia avvisata di non entrare in quella zona altrimenti il dispositivo la individua e ad esempio il ciclo di funzionamento della macchina può fermarsi abbiamo già detto delle zone d'ombra bisogna tenerle in considerazione abbiamo già detto delle zone di tolleranza che bisogna tenere in considerazione la zona di tolleranza è appunto quella zona attorno quella che qua viene identificata con B e che è colorata in grigio più scuro dove la capacità di detenuamento non è garantita questa zona per noi agli effetti della protezione di persona è come se non ci fosse assolutamente va bene due parole anche su una norma recente un'IN ISO 3691-34 questa norma è la norma che riguarda i carrelli industriali senza guidatore a bordo norma importante è sostituita la vecchia un'IN 1525 che tra l'altro non era più armonizzata e questa norma appunto si applica ai dispositivi ai carrelli industriali che hanno una guida autonoma quindi non hanno persone che la guidano a bordo o da remoto e dice che appunto i mezzi di direnamento delle persone possono essere o dispositivi sensibili alla pressione con un arresto per contatto oppure degli ESPE quindi dei bumper virtuali dei paraurti virtuali con un arresto prima del contatto la norma chiede che i mezzi di rilevamento delle persone coprano la larghezza massima del carrello e del carico trasportato alla direzione di marcia e che il carrello si arresti prima del contatto tra la parte rigida e la persona ferma a seguito dell'arresto poi i dispositivi possono ripartire automaticamente oppure no e ci possono essere ci può essere la necessità di avere sistemi di avvertimento luminosi o sonori che preavvisano la partenza e nel caso di dispositivi sensibili alla pressione ci deve essere anche un ritardo minimo di due secondi se invece non si può garantire l'arresto ad esempio dove non c'è un spazio sufficiente per garantire l'individuazione delle persone e l'arresto del carrello prima che vada a urtare le persone allora a questo punto devo avere una velocità del carrello che non superi 0,3 metri al secondo e una funzione del resto aggiuntiva che deve essere chiaramente identificabile e deve essere nel raggio di azione di 600 mili del punto pericoloso quando posso avere un esempio di un caso in cui posso avere una condizione di questo genere ad esempio quando il carrello va a prelevare o a depositare un carico da una rugliera non posso avere uno spazio davanti tale da individuare la presenza delle persone però adotterò delle misure alternative tipo questa appunto velocità lenta e un comando comunque che posso raggiungere entro 600 mm le funzioni di sicurezza nella nuova norma hanno anche dei livelli di prestazione richiesti monitoraggio velocità un PLRC e l'arresto del carrello a seguito all'individuazione di una persona quindi compreso anche l'aserscanner nel momento in cui viene utilizzato per fare questa funzione devono raggiungere un PLR pari a D ci sono poi due tabelle tabelle A1 e tabelle A2 che danno indicazioni ad esempio per la velocità massima consentita l'attivazione di avvisi acostici o luminosi la ripartenza automatica e la classificazione della zona in funzione di varie caratteristiche ad esempio del fatto che esista o non esista una via di fuga la via di fuga per le persone è una via che allarga a meno 0,5 metri e alta almeno 2,15 metri e nel caso in cui c'è la via di fuga si adotteranno delle misure di protezione nel caso in cui non ci sia una via di fuga si adotteranno delle altre misure di protezione questo ad esempio è la classificazione delle distanze quando ho delle strutture fisse e continue e questo è un esempio della tabella A1 quindi dei requisiti che devo mettere in atto a seconda appunto della distanza che ho da una parte o dall'altra del percorso del carrello oppure nella direzione di marcia del carrello è importante questa norma è sicuramente una norma che ha cambiato radicalmente l'approccio a questo tipo di applicazioni e sicuramente va tenuta in considerazione quando ci sono determinate condizioni di trasferimento del carico e può essere necessario disattivare i mezzi di rilevamento delle persone la norma chiede che vengano disattivati il più tardi possibile ad esempio meno di 180 mm dall'oggetto e che questa disabilitazione sia consentita solo quando la velocità è inferiore a 0,3 metri al secondo anche in questo caso ci sono dei PL che devono essere raggiunti ovvero ad esempio il muting in modalità automatica deve raggiungere un PLD muting in modalità automatica vuol dire disabilitazione delle misure di protezione quindi ad esempio del laser scanner in modalità di funzionamento automatico ci sono poi delle zone nelle quali i mezzi di rilevamento delle persone possono essere disattivati ad esempio quando il carrello sta lavorando in una zona confinata la zona confinata è definita come una zona che è trassegnata con carrelli segnaletiche orizzontali o a terra l'accesso deve essere consentito solo al personale autorizzato non deve includere nessuna postazione di lavoro e deve essere chiusa da ripari fissi perimetrali che non essere conformi ai requisiti che sono indicati quindi alti almeno 2,1 metri conforme a 38857 2020 eccetera eccetera inoltre queste protezioni devono essere adottate in un riparo mobile interbloccato con blocco del riparo per consentire l'accesso solo al personale autorizzato in questo caso in questa zona visto che le persone non possono esserci i dispositivi di protezione che rilevano le persone possono essere disabilitati possono anche avere una selezione automatica dei campi di rilevamento questi di questi carrelli che sono in base alla velocità alle direzioni dimensioni del carico o ad altri parametri ecco questa è una cosa che posso fare tranquillamente utilizzando dell'ase scanner perché appunto c'è una possibilità di selezione dinamica della forma e della dimensione delle zone di rilevamento e quindi il sistema di comando può allungare o accorciare allargare o restringere le zone di detezione ad esempio appunto a seconda della velocità quindi più è lento il carrello più piccola può essere la zona di detezione più è lento il carrello più la zona di detezione deve essere ampia se passo in uno spazio stress posso restringere la zona di detezione ad esempio se passo attraverso due colonne dello stabilimento se ho uno spazio invece largo posso allargare la zona di detezione in modo tale da verificare la presenza di persone che si avvicinano al carrello anche magari obliquamente quindi non nella stessa direzione di movimento del carrello bene qual è il futuro che ci aspetta c'è adesso in studio un progetto di norma l'ISOCD 13855 adesso siamo nella fase cd cioè bozza di comitato quindi questa bozza circola all'interno del comitato tecnico di cui faccio parte per la scrittura della nuova edizione della norma la norma probabilmente uscirà l'anno prossimo la nuova edizione della norma sono state fatte tutta una serie di cambiamenti e la norma sarà molto più dettagliata di quella attuale andrà a prendere considerazione molti più casi ad esempio nella direzione di avvicinamento alla zona di elevamento si divide tra un avvicinamento ortogonale che vedete lì a sinistra che può essere appunto dall'alto ma comunque ortogonale alla zona pericolosa oppure con una barriera o con un dispositivo di protezione nella zona di detezione disposta verticalmente oppure parallelo però cosa vuol dire ortogonale e cosa vuol dire parallelo beh la nuova norma l'ha precisato perché ha detto che ortogonale vuol dire che l'angolo tra il piano di detezione e il piano di riferimento quindi la pavimentazione tipicamente è compresa tra 30 e 150 gradi invece parallelo quando questo angolo è minore o uguale di 30 gradi oppure è maggiore o uguale di 150 gradi quindi se ho una zona di detezione inclinata a seconda appunto dell'angolo teta che io formo vado a definire se è una verticale o se è un orizzontale e la differenza tra la verticale e l'orizzontale è che proprio vado a definire diverse modalità per riuscire a determinare la distanza minima S tra la zona pericolosa e il bordo esterno della zona di detezione ci sono poi delle altre indicazioni che sono state date ad esempio HD che è l'altezza della zona di rilevamento vedete che c'è uno spazio al di sotto della zona di rilevamento nella figura la nuova edizione della norma sta proponendo di fare una formula di quel tipo HD deve essere maggiore o uguale di 15 per la capacità di detezione del dispositivo meno 50 mm comunque deve essere superiore a 1000 mm ma se è superiore a 200 mm attenzione sulla norma attuale c'è scritto 300 mm c'è comunque un rischio di accesso non individuato alla zona pericolosa e di questo quindi dovrò tener conto una valutazione dei rischi e se necessario dovrò adottare delle misure di protezione aggiuntive invece vado a determinare una zona pericolosa che può essere raggiunta ma con un dispositivo di protezione disposto orizzontalmente vedete la figura della norma riporta un tappeto sensibile a una barriera fotolettrica disposta orizzontalmente e un laser scanner la distanza tra il bordo esterno della zona di detezione quindi la distanza S e la zona pericolosa deve essere almeno pari a K per T dove K e T sono la stessa cosa della norma attuale cioè la velocità di avvicinamento di parte del corpo e il tempo di arresto complessivo del sistema più DDS più Z dove DDS è la distanza di raggiungimento associata al dispositivo di protezione che è pari a 1200 mm e Z è un fattore di distanza supplementare ad esempio per l'errore di misura dispositivo quindi vedete che vado a dettagliare di più la formula quello Z è quello che prima veniva denominato zona di tolleranza ci sono poi tante altre novità in questa edizione della norma però al momento siamo ancora a uno stadio abbastanza preliminare lo sviluppo lo vedremo nei prossimi mesi bene ringrazio dell'attenzione per questa mia parte e passo la parola a Raffaele grazie mille Ernesto grazie dell'intervento passiamo alla parte applicativa relativa appunto all'utilizzo dei laser scanner di sicurezza nel caso appunto delle applicazioni più tipiche relativamente all'ambiente dell'industria brevemente permettetemi di presentarmi come dicevano appunto i colleghi Tiziana ed Ernesto io sono Raffaele Tomelli opero nell'ambito di data logic casa madre e sono un business developer e specialista dei prodotti di sicurezza veniamo alle applicazioni ovviamente come potete immaginare ci sono sicuramente tantissime applicazioni dove un prodotto come il laser scanner trova grande e largo utilizzo vi mostreremo e discorreremo insieme di alcuni esempi anche perché effettivamente alla luce anche di quanto raccontato finora in modo estremamente esaustivo da Ernesto le applicazioni come avrete modo anche di constatare e come sicuramente avete avuto modo di sperimentare nelle vostre attività quotidiane sono abbastanza ripetitive mi riaggancio velocemente a quanto Ernesto ha detto poc'anzi relativamente a una prima classificazione delle applicazioni dei laser scanner di sicurezza nel senso che proprio da normativa e questa effettivamente è una classificazione che deriva dalla norma quindi non è una classificazione frutto dell'applicazione o dell'esperienza ma è proprio un requisito normativo quindi possiamo andare a suddividere le applicazioni dei laser scanner in due grandi filoni le applicazioni cosiddette orizzontali quando il piano laser del dispositivo diciamo si trova sotto un angolo che non è superiore quindi minore uguale ai 30 gradi rispetto al piano di riferimento e le cosiddette applicazioni verticali dove invece il piano laser descrive un angolo con il piano di riferimento maggiore di 30 gradi Raffaele scusa Raffaele ti interroppo un secondo non vediamo la tua presentazione no scusate allora vediamo se riesco a questo no questo no adesso sì perfetto scusatemi quindi ritorniamo appunto riprendiamo quanto dicevamo poc'anzi perché è fondamentale dividere tra le applicazioni orizzontali e le applicazioni verticali soprattutto per un laser scanner perché perché quando il laser scanner è montato verticalmente come potete vedere nell'esempio in basso la cortina che disegna e qui riprendiamo tutto quanto ci ha descritto Ernesto forma un protegge normalmente un accesso ora proprio per evitare che si verifichino quelle situazioni di cui parlavamo poc'anzi ovvero che si generino delle cosiddette zone d'ombra o meglio per meglio dire zone morte cioè ci possono essere degli accessi non desiderati da parte dell'operatore nella zona pericolosa è necessario che il laser scanner montato in verticale sia programmato con la definizione non solo delle cosiddette aree di detezione ma anche di quelli che sono normalmente chiamati punti di riferimento ovvero in corrispondenza della superficie di riferimento che in questo caso potrebbe essere il pavimento o comunque una superficie della macchina dobbiamo programmare il dispositivo definendo dei punti che il dispositivo stesso registra nel vero senso della parola e nel dire registra le registra in termini di distanza e di angolo e che tiene costantemente monitorati questo perché perché se io tento di effettuare una manomissione modificando l'angolo di montaggio del dispositivo il laser scanner perde la sensibilità di questi punti non li ritrova più e quindi va in blocco va in errore in modo sicuro per perdita dei punti di riferimento quindi è assolutamente fondamentale sapere bene definire bene sin dal principio di che tipo di applicazione si tratti è ovvio che in orizzontale puro è molto semplice in verticale puro è molto semplice ci sono le cosiddette zone di confine dove appunto è fondamentale il valore dell'angolo di riferimento qui riportato dopodiché procediamo e andiamo invece a fare una classificazione dell'applicazione più di carattere pratico non è una conseguenza di una norma o di più norme ma semplicemente è conseguenza dell'esperienza è conseguenza dell'ambiente e dell'applicazione stessa quindi si suole normalmente parlare di applicazione statica quando io ho un dispositivo fisso quindi lo scanner è fisso non si muove e quando lo scanner è programmato con una sola area di detezione o come diceva poc'anzi Ernesto poiché questi dispositivi hanno la possibilità di richiamare dinamicamente più set di campo più ricette più zone ognuno le chiama come meglio crede però la sostanza è sempre quella quindi avendo questa possibilità normalmente si parla di applicazione statica quando queste zone quando abbiamo una zona soltanto quindi quando viene effettuata una protezione di un'area e questa area non cambia diciamo così mentre invece parliamo di applicazione dinamica quando lo scanner è sempre fisso quindi non si muove ma viene programmato con più zone e queste zone vengono dinamicamente richiamate a seconda del ciclo di produzione a seconda di quale sia l'area da proteggere evitando quindi inibendo ogni tipo di accesso in sicurezza e lasciando invece la possibilità ad un operatore di poter accedere da un'altra parte che nel momento specifico non costituisce un pericolo finiamo con quelle applicazioni che sono dette mobili quindi normalmente in un'applicazione mobile lo scanner non è fisso ma si muove solidalmente con un'entità in movimento abbiamo utilizzato la parola entità perché vogliamo specificatamente sottolineare che un'applicazione mobile non è necessariamente un AGV cioè non è necessariamente un veicolo autoguidato ma può anche essere qualcosa di simile potrebbe essere uno shuttle potrebbe essere un centro di lavoro non è infrequente vedere applicazioni dove il laser scanner è solidale a un centro di lavoro che non è fondamentalmente un oggetto che trasporta carichi non è un muletto ma è qualcosa che comunque si muove di solito salvo rari casi le applicazioni mobili richiedono più aree quindi sono tipicamente mobili dinamiche diciamo così non è la regola non è il cento per cento dei casi ci sono alcune situazioni in cui effettivamente in veicoli o per esempio carrelli che si muovono su percorsi fissi o su rotaie ci possono essere laser scanner montati fronte o fronte retro il carrello con un'area soltanto ma è veramente sono veramente casi molto limitati perché come dicevamo Pocanzi se questo ente mobile ha varie velocità immediatamente risulta necessario andare a sagomare le aree a seconda della velocità e quindi chiaramente diventa un'applicazione mobile dinamica come avete avuto modo di di constatare non ho distinto tra verticale e orizzontale perché le applicazioni sia statiche che dinamiche che in alcuni casi particolari anche mobili possono essere sia orizzontali che verticali andiamo a vedere alcuni esempi pratici qui abbiamo semplicemente voluto riassumere con una tabella esplicativa quelle che possono essere le tipiche applicazioni orizzontali statiche verticali statiche o dinamiche anche e mobili per tipologia di macchina e settore di mercato quindi la più tipica delle applicazioni orizzontale statica è una cella robotizzata o per esempio una macchina aperta una macchina utensile dove io vado a posizionare il laser scanner facendolo funzionare come un tappeto sensibile immateriale ovviamente quindi macchine nell'ambiente automotive macchine utensili macchine lavorazione legno o anche metallo le applicazioni verticali sono tipicamente quelle utilizzate nelle linee di trasporto quindi movimentazione materiali palletizzatore di palletizzatori conveyor quindi diciamo così nell'ambiente della logistica intralogistica e del fine linea le applicazioni mobili sono quelle relative ai veicoli come gli AGV cioè i cosiddetti muletti autoguidati gli AGC che sono i veicoletti più piccolini anch'essi autoguidati quelli che stanno diventando abbastanza diciamo frequenti e famosi cioè gli AMR ovvero sia un veicolo autoguidato che porta a spasso un robot antropomorfo e anche altri enti mobili che non sono necessariamente veicoli autoguidati come shuttle carrelli e similari applicazione relativa a una cella robotizzata qui semplicemente vediamo uno scanner che viene installato al di sotto di una tavola rotante che alimenta un robot che va a installare delle parti di chassis sulla carrozzeria di un veicolo qual è il grandissimo vantaggio di un dispositivo come il laser scanner rispetto a protezioni immateriali ovviamente ma anche materiali più classiche nel caso della protezione materiale chiaramente lo sappiamo tutti molto bene la protezione materiale è probabilmente quella più efficace perché chiude l'area pericolosa e impedisce fisicamente l'accesso all'operatore ma per contro ricordiamo sempre che la sicurezza deve viaggiare e viene richiesto che viaggi di pari passo con la produttività quindi in un'applicazione dove un operatore deve poter interagire con la macchina una protezione materiale dove sia consentito non utilizzarla sicuramente limiterebbe l'accesso dell'operatore se consideriamo le protezioni immateriali più classiche come potrebbero essere appunto un tappeto sensibile o una barriera in questo caso per inibire l'accesso dell'operatore tramite barriera dovremmo montare delle barriere eventualmente con specchi creare una protezione perimetrale che però naturalmente non è la più flessibile la più ergonomica perché perché comunque io dovrei installare le barriere e avere eventualmente anche delle colonne di supporto dove montare specchi per poter determinare realizzare la deviazione del raggio e creare il perimetro ricordo sempre che colonne piazzate nel percorso vivo di un ambiente industriale come quello schematizzato da questa renderizzazione 3D sono ostacoli e possono essere soggetti a danneggiamenti dovuti a denti in movimento come muletti per esempio il laser scanner ha la caratteristica di fornire una copertura completa e flessibile perché grazie alla possibilità di sagomare le aree io posso andare anche a coprire quelle che sono le zone interstizi nascosti e arrivare a proteggere fino al di sotto dello stesso tavolo rotante coprendo quindi grazie anche ai 275 gradi di angolo di apertura del dispositivo quelle che potrebbero essere potenziali punti di accesso indesiderati la portata fino a 5,5 metri garantisce di poter coprire ampi spazi in perfetto rispetto dei calcoli della distanza di sicurezza e la possibilità di gestire anche la doppia o tripla area quindi non solo l'area di sicurezza per l'arresto bensì anche le aree di preallarme fornire delle diciamo così informazioni visuali o acustiche che avvertano l'operatore che si sta approcciando alla zona pericolosa sicuramente nell'ambito delle isole robotizzate il laser scanner esegue egregiamente il compito di sicurezza cosiddetta secondaria cioè quello che ci spiegava Ernesto durante il corso ovvero l'inibizione del riarmo non è infrequente avere un robot racchiuso da reti l'accesso all'isola robotizzata protetto da interbloccati di sicurezza in categoria 4 quindi in PLE e all'interno dell'area robotizzata dell'isola robotizzata vari laser scanner che monitorano la presenza di un operatore e mantengono bloccato il comando di riarmo esterno diciamo è opportuno rilevare e sottolineare che questi laser scanner sono diversi perché appunto eventualmente grazie alla sua portata un laser scanner potrebbe coprire un'isola robotizzata da solo però c'è sempre da non sottovalutare da ricordare il tema delle ombre del cosiddetto shadowing quindi è necessario installarne più di uno per coprire al meglio tutte le parti dell'isola questa è un'applicazione verticale è abbastanza interessante perché perché con un solo laser scanner io posso proteggere due potenziali accessi e lo posso fare in un modo estremamente flessibile per quale motivo semplicemente perché il laser scanner mi consente di disegnare delle aree e dinamicamente richiamarle quindi per esempio fare in modo che quando ho bisogno di entrare a sinistra con il il rack con le parti io proteggo solamente l'area di destra e quindi perché a destra il robot sta lavorando mentre quello di sinistra diciamo è inquiete è in fase di ricarica e quindi posso avere al limite un'area solo di warning che mi dice attenzione sto entrando e poi effettuare il cambio tra l'area di sinistra e l'area di destra quando invece devo entrare da destra oppure io posso anche disegnare due diverse aree di sicurezza una di sinistra una di destra e fare in modo che queste afferiscano a due diversi canali sicuri indipendenti quindi usando una terminologia tecnica due coppie di OSSD questo fa sì che se io interrompo l'area di sinistra vado a bloccare solo il robot di sinistra e se interrompo l'area di destra bloccherò il robot di destra posso anche fare mettere in pista la funzione di muting e la funzione di muting la posso fare in modo dinamico parziale cioè disegnata l'area complessiva che protegge tutto il varco posso poi andare a definire il varco di muting cioè l'area che vado ad inibire per consentire l'accesso e se ragioniamo per esempio in un'ottica di linea di trasporto conveyor dove per esempio ci sono pallet o pacchi o cartoni che si spostano che hanno formati diversi voi capite immediatamente come il muting parziale dinamico sia una funzione incredibilmente flessibile perché io con il cambio dinamico delle aree posso cambiare il formato cioè posso andare a definire delle dei varchi di dimensione diversa che consentano il passaggio solo ed esclusivamente dell'oggetto continuando a proteggere tutti i restanti interstizi cosa che come sicuramente sapete non è fattibile in un modo così flessibile con delle barriere di sicurezza pur avendo le barriere di sicurezza eventualmente la funzione di muting parziale passando alle applicazioni mobili qui abbiamo voluto propriamente far vedere la differenza tra un'applicazione su shuttle o in questo caso abbiamo un magazzino automatico con un traslo che si sposta lungo le campate del magazzino e normalmente vengono installati laser scanner o frontali qualora lo shuttle si muova in un'unica direzione o fronte retro qualora appunto lo shuttle si muova in entrambe le direzioni o ci sia altresì la possibilità per un operatore di accedere da entrambe le postazioni e comunque ci sia un rischio concreto che l'operatore venga colpito e ferito dallo shuttle nella sua corsa e quindi in questo caso non è un veicolo libero ma è un qualcosa che si sposta su rotaia fondamentalmente però richiede la protezione qui naturalmente pensare di andare ad inserire delle barriere anche in orizzontale all'interno delle singole campate risulterebbe molto complicato perché avremmo dei problemi di installazione di interferenza con lo shuttle in movimento mentre invece con il laser scanner io ho qualcosa che si sposta insieme allo shuttle e che mi garantisce comunque la protezione ed eventualmente mi consente di risagomare l'aria quando lo shuttle si avvicina alle sue due estremità cioè ai cosiddetti due fine corsa mentre invece qui abbiamo la più classica e ripetitiva applicazione mobile su veicoli autoguidati qual è la grande flessibilità e il grande vantaggio che io ho utilizzando un laser scanner in questa applicazione come già detto io posso inserire più di un laser scanner qui ne dimostriamo due ma in realtà ci sono applicazioni dove nei veicoli ce ne sono anche financo sei di laser scanner montati per esempio uno frontale uno posteriore e due laterali dove quelli laterali servono per le operazioni di carico scarico ci sono dei laser scanner in alto che tengono sotto controllo la parte posteriore durante appunto le fasi di manovre di scarico ci sono degli scanner che vengono aggiunti sulle forche proprio per proteggere nel momento in cui il veicolo scarica o carica da un conveyor e quindi per evitare appunto che ci sia qualche operatore che per qualche motivo si trova sul conveyor e trattando di dispositivi mobili autoguidati lo scanner dà la possibilità di disegnare più progetti di area tutti richiamabili in modo dinamico o tramite ingressi digitali oppure eventualmente tramite l'informazione prodotta da due encoder che sono solidale alle ruote del veicolo in modo che appunto il cambio cosiddetto delle aree venga effettuato sulla base della velocità del veicolo o con un'informazione ridondante rappresentata sia dalla velocità del veicolo che da addizionali ingressi digitali la possibilità di gestire doppie e triple aree di sicurezza consente di effettuare una funzione frequentemente richiesta sia sui veicoli che anche sui robot che è quella del rallentamento in sicurezza cioè io richiedo di avere due aree collegate a segnali intrinsecamente sicuri poiché con un'area più ampia voglio rallentare il veicolo ma voglio farlo in sicurezza e con l'area più stretta invece lo arresto ultima considerazione poiché il laser scanner opera basandosi sul principio del tempo di volo e quindi conoscendo distanza ed angolo di ogni singolo elemento concreto presente all'interno dell'impianto su cui esso si muove solidalmente al veicolo detta informazione di cosiddetta dimisura disponibile sul protocollo dati del dispositivo può essere utilizzata per effettuare la cosiddetta navigazione naturale del dispositivo o anche la navigazione tramite punti di riferimento poiché il dispositivo laser scanner è in grado di distinguere tra un oggetto opaco e un oggetto riflettente per ultimo il dato di misura può essere sfruttato anche per effettuare la cosiddetta anticollisione tra veicoli quindi non semplicemente proteggere un operatore dal veicolo quindi evitando una collisione tra operatore e veicolo ma evitando collisioni tra il veicolo ed altri veicoli o il veicolo e le strutture del dell'impianto su cui entro entro cui esso si muove direi che abbiamo completato almeno io ho completato la mia parte ringrazio tutti dell'attenzione scusatemi del problema di condivisione del video e possiamo dare spazio a questo punto alle vostre domande sì allora abbiamo raccolto qualche domanda inizio a farvele allora la prima ESPE di tipo 3 che esempi di prodotti esistono sul mercato questa è la la serie Raffaele sì vai benissimo allora ESPE di tipo 3 sul mercato come diceva anche Ernesto troviamo i laser scanner di sicurezza sicuramente che sono appunto dispositivi di tipo 3 secondo l'A614963 troviamo anche qualcosa di un pochino ibrido molto particolare che sono barriere di sicurezza che vengono classificate diciamo come ESPE di tipo 3 anche se un po' impropriamente per cercare di andare ad ovviare a quel limite di cui parlavamo poc'anzi ovvero sia che un dispositivo di tipo 2 non può superare non può raggiungere al massimo scusate il sil 1 e il PLC perché come dicevamo poc'anzi un dispositivo di tipo 3 potrebbe può raggiungere un sil 2 e un PLD e quindi ci sono alcuni esempi di barriere di sicurezza opto elettroniche che sono classificate come ESPE di tipo 3 anche se effettivamente è una un pochino una forzatura credo e poi magari Ernesto può confermare che questo sia stato fatto dai produttori per andare a compensare il passaggio che hanno avuto hanno vissuto le barriere di tipo 2 che originariamente prima della revisione della norma potevano arrivare al sil 2 e al PLD con la revisione della norma sono state portate come dicevamo al sil 1 e PLC e quindi conseguenzialmente ci sono state situazioni in cui tutti quegli impianti e macchine che erano stati certificati in sil 2 secondo i canoni precedenti si sono trovati in difficoltà perché montando barriere di tipo 2 non andavano più bene quindi o si passava la barriera di tipo 4 o altrimenti bisognava eventualmente rifare tutta l'analisi dei rischi e quindi la redazione del fascicolo tecnico per capire se si potessero declassare a sil 1 PLC però se vogliamo essere corretti i dispositivi di tipo 3 presenti reali effettivi sul mercato sono i laser scanner di sicurezza quindi gli AOPDDR come dicevamo all'inizio del corso grazie Raffaele la prossima è per Ernesto relativamente ai tempi di arresto da normativa esiste solo la possibilità di misurare o ci sono anche dei riferimenti tabellari per fare una stima alle quali ci si può appoggiare diciamo allora il tempo di arresto è il tempo di risposta complessivo del sistema che comprende tanti fattori alcuni di questi fattori non c'è bisogno di misurarli perché il fabbricante dà già dei tempi di risposta ad esempio le barriere fotolettriche laser scanner hanno un loro tempo di risposta intrinseco e quindi quello si assume quello che dà il fabbricante anche la logica tipicamente ha dei tempi di risposta che sono tabellati da fabbricante il grosso problema è poi andare a calcolare quali sono i tempi di reazione della parte invece diciamo fisica della macchina quindi del tempo di frenatura degli elementi proprio in movimento quindi il tempo di arresto non so di un cilindro pneumatico o il tempo di arresto di un elemento messo in rotazione da un motore anche qui si può pensare di fare dei calcoli teorici però bisogna poi riuscire a giustificare che questi calcoli teorici che sono fatti poi in realtà abbiano un riscontro effettivo trovo abbastanza difficile da fare perché c'è tutta una serie di considerazioni da fare che sono legati ad esempio nel caso della pneumatica anche alla dinamica del fluido e quindi alla lunghezza delle tubazioni eccetera eccetera e secondo me lo sforzo per riuscire a calcolare è superiore rispetto allo sforzo che si fa per misurarla quindi io consiglio comunque di fare la misura è una dimostrazione pratica effettiva e oggettiva di quello che poi ho ottenuto grazie mille ci sono dei casi in cui devo prevedere il ripristino manuale a doppio comando beh rispondo io su questo va bene sì dai allora sì i casi in cui il ripristino allora spieghiamo cosa vuol dire doppio comando ci sono c'è la possibilità di avere più comandi di ripristino però la distinzione va fatta tra quelli che vengono chiamati normalmente comandi di ripristino multipli e comandi di ripristino sequenziali comandi di ripristino multipli vuol dire che io posso comandare il ripristino dalla postazione A alla postazione B alla postazione C ma sono tutte indifferenti ad esempio attorno alla zona pericolosa protetta ho tre punti di accesso dai quali vedo comunque tutta la zona pericolosa protetta e quindi che io azioni il comando di ripristino al di fuori della porta A della porta B o della porta C non cambia assolutamente niente ma questi dal puntista del circuito di comando sono un comando singolo quindi mi basta un comando per ripristinare i comandi invece di ripristino sequenziali sono comandi di ripristino che devono essere azionati in sequenza e quindi uno o più comandi sono posti all'interno delle zone pericolose in una zona dalla quale io posso vedere quelle aree che non vedo dalla zona di ripristino principale quindi prima entro nella zona pericolosa o nelle zone pericolose nel caso in cui abbia più comandi di ripristino sequenziali aziono i comandi di ripristino all'interno delle zone pericolose in modo tale da costringere la persona ad entrare dentro e vedere che effettivamente non c'è nessuno poi ho un tempo predeterminato per uscire e azionare il comando di ripristino principale in questo caso tutti i comandi di ripristino vanno considerati come comandi di ripristino di sicurezza e anche la sequenza è importante non posso azionare prima quello fuori e poi quelli dentro di azionare prima quelli dentro e poi quello fuori ok ne abbiamo un'altra che rimane sullo stesso argomento quindi per quanto riguarda appunto sempre la sequenza di riavvio a comando manuale secondario esistono dei tempi massimi da rispettare? allora il tempo deve essere sufficientemente basso da evitare che una persona se ne possa essere dimenticato cioè io entro all'interno della zona pericolosa aziono un comando di pre ripristino poi vado a fare tutt'altro dopo mezz'ora un'ora arriva qualcun altro e aziono il comando di ripristino principale e la macchina si ripristina ma nel frattempo in questa mezz'ora in questa ora che è trascorsa potrebbe essere che un'altra persona è entrato nella zona pericolosa quindi il tempo massimo è funzione della valutazione che io faccio ma deve essere il minimo indispensabile considerando che uno non debba correre per fare questa cosa chiaramente per consentire di uscire dalla zona pericolosa e di azionare il comando di ripristino evitando che nel frattempo qualcun altro possa essere entrato dentro diciamo che i tempi tipici sono dell'ordine del 5 10 15 secondi per consentire appunto di uscire dalla zona pericolosa con calma con relativa calma e azionare il comando di ripristino ma non andrei oltre queste queste tempistiche insomma ok ne vedo ancora ne vedo ancora una quando si fa riferimento ai bloccaggi con lucchetto si fa riferimento alle best practice derivate da OSHA o da Lotto allora sì Lotto è per chi non lo sapesse cosa vogliono dire queste due sigle l'OSHA è l'occupational safety and the old administration degli Stati Uniti che è quella che ha definito negli Stati Uniti appunto è una norma di legge la procedura Lotto ovvero lockout tagout la procedura Lotto è una procedura mediante la quale si va a isolare tipicamente le energie pericolose delle macchine e tipicamente lo si fa sezionando le alimentazioni e quindi mettendo un dispositivo di blocco sui sezionatori in modo tale che nessuno possa ripristinare l'alimentazione finché non ha tolto il dispositivo di blocco per estensione questa cosa si può anche fare con il blocco delle porte quindi sì direi che deriva da quello è una pratica che partendo dagli Stati Uniti ma si è diffusa in tutto il mondo ritengo che sia una pratica veramente salvavita in tantissimi casi e quindi sì assolutamente ottima cosa tenete presente quello che ho già detto prima ovvero che essendo una misura procedurale nel momento in cui una persona non la mette in atta la misura non è efficace quindi se c'è una misura tecnica che può permettere di avere un grado di affidabilità superiore ad esempio appunto un doppio ripristino o un laser scanner che mi sente la presenza della persona è sicuramente meglio applicare la misura tecnica grazie grazie mille Ernesto non sono arrivate altre domande quindi direi che possiamo arrivare alle conclusioni io ringrazio Raffaele ringrazio te Ernesto e ringrazio insomma tutti quelli che oggi hanno avuto tempo di collegarsi per seguire il nostro webinar vi ricordo come dicevamo all'inizio che appunto il materiale condiviso unitamente alla registrazione verranno forniti a tutti i partecipanti e niente grazie grazie di nuovo benissimo grazie a tutti anche da parte mia grazie di essere partecipati e ci vediamo alla prossima grazie anche da parte mia e a presto grazie a tutti grazie a tutti Grazie.